Più congressi e meno comitive, più matrimoni, possibilmente VIP e perché no faraonici e meno croceristi. È una vera e propria rivoluzione, quella auspicata e promossa dal Comune di Firenze che ha deciso di destinare 280 mila euro allo sviluppo di un nuovo tipo di turismo. Fondi ironia della sorte raccolti attraverso l'imposta di soggiorno pagata proprio dalle migliaia di turisti in mordi e fuggi che ogni giorno passano in città e di cui il Comune vorrebbe liberarsi per puntare sul turismo congressuale piuttosto che su quello legato agli eventi sportivi o meglio ancora ai matrimoni. Il turismo di qualità è un turismo che non porta degrado ma porta lavoro, questo è quello che ci interessa. Il turismo mordi e fuggi non ci riguarda e non spenderemo mai un euro di soldi dei nostri cittadini né una goccia di sudore a favore di questo tipo di turismo. Ecco perché questi 280 mila euro verranno gestiti dal Firenze Convention Bureau che si è giudicato il bando e avrà il compito di portare in città i principali eventi congressuali al mondo sfruttando la nuova fiera e le sale monumentali di Palazzo Vecchio che il Comune metterà a disposizione gratuitamente. D'altronde la forza di questo tipo di turismo è tutta nei numeri. Il turista congressuale, ossia chi viene per un congresso, un convegno, un matrimonio spende in media oltre 680 dollari al giorno che è circa il quadruplo di quanto spende un tradizionale turista della città d'arte. Per poter diventare veramente attrattivi per il turismo di qualità però, ha detto Nardella, serve un aeroporto vero e non, ha detto il sindaco, quello di Mickey Mouse.